Arriva dall'antitrust un ulteriore giudizio negativo sulla gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna e sul bando per le prossime concessioni. Dopo aver bacchettato Atersi per le continue proroghe al servizio, dopo aver richiesto una gara pubblica per la gestione della discarica a Tremonti, l'autorità garante della concorrenza del mercato boccia il nuovo bando che dovrà assegnare la gestione dei rifiuti nei territori di Parma, Piacenza e nel distretto Ravenna-Cesena per i prossimi 15 anni. Ed è proprio la durata dell'affidamento considerata eccessiva a far storcere il naso all'ente pubblico. Secondo l'antitrust, invece, la durata degli affidamenti deve essere proporzionata ai tempi di recupero degli investimenti al fine di impedire il consolidarsi di posizioni di rendita. Nel caso della raccolta rifiuti, gli investimenti per l'acquisto di nuovi mezzi per la raccolta sono considerati di poco conto di fronte alla capacità di rientrare velocemente dalle spese. Un arco di tempo giudicato ottimale, invece, si ferma ad appena 5 anni, un terzo, quindi, della durata attualmente prevista dal bando. Seconda motivazione che ha portato alla bocciatura è l'ampiezza dei territori da gestire. Giudizio arrivato in particolare per il distretto Ravenna-Cesena, praticamente quasi tutta la Romagna, 600.000 abitanti. Un'area di lavoro troppo grande per permettere alle piccole e medie imprese, anche in associazione temporanea, di poter partecipare al bando, che di conseguenza risulta fortemente sbilanciato a favore delle multidiliti, operatori storici, nel mercato dei rifiuti. Se quindi, da una parte, aveva il plauso per aver finalmente aperto una gara d'appalto dopo anni di continue proroghe, dall'altra è arrivata la bocciatura netta per come il bando è stato concepito. Il combinato disposto di una durata eccessivamente lunga e non giustificata degli affidamenti, unitamente alle previsioni di bacini di gara particolarmente grandi, rischia di contrastare con l'orientamento giurisprudenziale in merito alla necessità e all'opportunità che le gare siano disegnate in maniera da garantire un'ampia partecipazione di operatori potenzialmente interessati, favorendo di conseguenza gli attuali operatori. La prima forza politica a rilanciare la nuova bocciatura dell'antitrust per il prossimo bando rifiuti è stato il Movimento 5 Stelle Difenza, che nel prossimo Consiglio Comunale presenterà un'interrogazione per chiederle al Comune come si comporterà di fronte ad un giudizio così negativo. La Regione avrà ora tempo un mese e mezzo per rispondere alle critiche del garante. Già nel 2014 l'antitrust aveva multato ERA per quasi 2 milioni di euro per abusi nella gestione dei rifiuti cartacei. Due anni dopo un'altra sanzione per violazione dei termini di pagamento. Lo scorso anno anche l'ANAC rilevò gravi violazioni nei bandi di ERA. L'autorità anticorruzione infine all'inizio di quest'anno aveva duramente criticato Ather Sirlente che dovrebbe controllare l'operato delle aziende che gestiscono la raccolta dei rifiuti.